si gira buonasera benvenuti al ciuccio e vi presentiamo un nuovo gruppo che si trova alle hit ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo tu sei una persona formidabile straordinaria mai incontrata nella mia vita oggi domenica 6 febbraio siamo a casa di giovanni capone e praticamente dovrei inventare comunque registrare auguri per te in un modo carino e non a quanto banale grazie a tutti 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 Grazie a tutti